Il testo è tratto dal libro Quaderni del 1943 di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. 15 agosto 1943. Dice Gesù. Dei tuoi scritti va usato così. La parte che è tua avrà il solito valore informativo per la curiosità dell'uomo e vuole sempre scandagliare sui segreti delle anime. La parte che è mia e che va separata dalla tua avrà valore formativo perché in essa vi è voce evangelica, e questa voce evangelica ha sempre valore di formazione spirituale, quale che sia il modo con cui viene a voi. Anche quando il modo, o i modi, con cui essa è pervenuta alla portata delle anime, non sono più di questa terra. Essa resta quello che è, e non perde il suo valore. Ero quella del giugno. Allora si chiedeva che le bombe risparmiassero case e persone di viareggio. E questo era argomento comprensibile alla ottusità e alla paura umana. Oggi si chiede una cosa più alta e universale e, doloroso a constatarsi, non universalmente desiderata, non desiderata neppure dalla totalità del piccolo nucleo viareggino. Guerra vuol dire rovina di molti, ma anche utilità di molti. E davanti all'utilità propria, l'uomo trascura l'utilità collettiva. Vi amate così poco fra di voi, e vivete ognuno chiuso nel proprio egoismo e armato di aculei per il vicino. Perciò, se era poco sentita dallo Spirito la prima preghiera, ma era sentita solo dalla carne che tremava di paura per sé stessa e per il suo avere di case, questa è detta con lo Spirito ancora più sordo. Non è così che si ottiene ciò che si chiede. La tregua delle armi verrà, perché deve venire, ma non sarà che tregua. E altro è tregua, e altro è pace. Pace vuol dire concordia esterna e interna, cercata e voluta con vista e affetto spirituale. Se sapeste venire a me, con le labbra e l'anima monda e accesa di vera carità, vi darei questa pace. Ve la darei contro tutti gli ostacoli che il male mettesse per impedirla, perché io sono il vincitore eterno. Ma anche fra i non molti che oggi pregheranno nelle case per questo, pochi, pochi, pochi avranno i requisiti che fanno potente la preghiera. È una verità dolorosa e spaventosa, ma non giova a nasconderla, poiché il suo male resta anche se nascosto. Poveri uomini, come siete cattivi! Se tuonassi questa verità dai cieli, l'uomo ne resterebbe offeso, come i farisei quando li denunciavo scoprendo le loro occulte magagne. Ma è come dico. La pace santa e vera non è desiderata da tutti. Siete così ottusi e impastati di tendenze malvagie, e non riuscite neppure a sentire il tono della verità che uno, da più di voi, vi svela. Ma la verità è quella. Non vi può essere altra verità, poiché ve ne è una sola. Siamo sempre a quel discorso. Se ci fossero dieci giusti. Ma i giusti sono così pochi contro la massa degli ingiusti. Satana ha un numero sterminato di figli e servitori. Il figlio di Dio, di veri figli e veri servi, ne ha un numero insignificante. E in questo squilibrio sta la causa della vostra rovina. Grazie. 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 Grazie.